Breast Unit di Lentini, incontro assessore Razza e comitato sostegno. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza insieme alla direzione dell'ASPA di Siracusa incontrerà domani il comitato sostegno della petizione popolare per mantenere e rafforzare l'unità di prevenzione e cura del tumore alla mammella Breast Unit di Lentini. Così in una nota la deputata dell'Assemblea regionale siciliana Rossana Cannato. L'assessore, spiega la vicepresidente dell'Antimafia, mi ha assicurato che attenzionerà al meglio il servizio sanitario rivolto nello specifico alle donne al fine di poter attribuire anche al di là dei criteri e delle cifre il giusto riconoscimento che consentirà di soddisfare ad ampio raggio i bisogni di salute delle stesse presi in carico ad oggi dal presidio ospedaliero della nostra provincia con qualità e professionalità. Garantire il diritto alla salute e alla cura in ambito territoriale scongerando la mobilità passiva, conclude la deputata, è uno dei punti cardini su cui occorre insistere per far sì che le strutture nella nostra provincia siano sempre migliorate e implementate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.